Buonasera, benvenuti al TG Nord. Il congresso federale della Lega Nord si farà e si terrà possibilmente il 30 novembre prossimo. Lo ha confermato il segretario federale del Carroccio Roberto Maroni a margine di un convegno a Gazzada nel Varesotto dopo il suo annuncio di voler lasciare la segreteria federale del Movimento per lasciare spazio a un esponente più giovane. Certamente sì, ha risposto Maroni a chi gli chiedeva se il prossimo 30 novembre potesse essere una data per tenere il congresso. Il 30 novembre è un sabato, il primo dicembre, una domenica, ha aggiunto Maroni. Ha sottolineato che sulla data non tocca al segretario decidere lo statuto, lo prevede chiaramente su richiesta del segretario federale. Il congresso viene convocato dal presidente federale, cioè Umberto Bossi, e questo è quello che succederà. Quindi, confermo, ha aggiunto Maroni. È una decisione che ho preso e che il congresso si farà prima di Natale. Arrivando al convegno, Maroni ha detto di augurarsi che la prossima primavera ci siano anche le elezioni politiche anticipate, oltre alle europee e alle amministrative in questo contesto. Maroni ha collocato il suggerimento a Berlusconi sulle prossime scelte del PDL. L'ho sentito, Berlusconi ha spiegato ai giornalisti, mi pare molto preoccupato e penso che debba prendere una decisione. Mi auguro che la decisione sia di togliere il sostegno al governo Letta, perché è un governo che non sta facendo bene. Anzi, ha concluso Maroni, è sostenuto da una maggioranza dove c'è un partito, il PD, che lo sta trattando come all'epoca fu trattato Craxi. Però è una decisione che spetta a Berlusconi, naturalmente è quanto ha dichiarato questa mattina Maroni. Maroni ha indicato come possibile successore insieme a Flavio Tosi, Matteo Salvini.